Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi video velocissimo in macchina Video per fare i miei complimenti all'Atalanta Che sta giocando veramente un calcio spettacolare Che a mio avviso nessuno gioca in Italia Neanche la Juve Secondo me arriverà anche in semifinale Voglio fare questo azzardo I quarti sicuramente il ritorno è solo una formalità Perché a San Siro ha venuto 4-1 A ritorno si dovrebbe suicidare Per essere eliminata dalla Champions League E per non passare ai quarti Quindi sto per scontato il passaggio del turno ai quarti Per quanto riguarda la semifinale Ovviamente non so chi potrebbe incontrare Perché è ancora troppo presto Però sono sicuro che chiunque incontri Anche se dovesse essere una squadra Una squadra con molta più esperienza internazionale Tipo Real Madrid e Barcellona O il Borussia comunque O il Paris Saint Germain Sono sicuro che se la giocherà Fino in fondo Io sono dalla parte dell'Atalanta Io non sono il tipico italiano che dice In Europa bisogna sempre rifare le italiane Però in questo caso io sono dalla parte dell'Atalanta Perché ha espresso sicuramente il miglior caso d'Italia E uno dei migliori d'Europa A mio avviso E poi Se Se dovesse arrivare Addirittura in finale ragazzi Non mi immagino Che cosa succede a Bergamo Fanno festa per 4-5 giorni di fila Va bene ragazzi Questo video finisce qui Era un video brevissimo Per fare i miei complimenti Dovuti all'Atalanta Lasciatevi anche commentate E iscrivetevi Al canale Che Me ne manca uno Ai 30 iscritti Dai ragazzi Su Sempre Forza Milan Ciao da Barba Milan